Grazie a tutti. Ogni plesso prepara un qualcosa che condividiamo tutti insieme, sempre a tema. La nostra scuola ogni anno dedica un segmento della propria offerta formativa a ricordare il 25 aprile. Chiaramente noi lo facciamo non il 25 aprile perché è festa nazionale, ma un momentino prima. E noi cerchiamo sempre di diffondere nei ragazzi i principi della democrazia, ecco perché insistiamo a commemorare questo giorno. Gli insegnanti dedicano parecchio tempo a informare i ragazzi sul significato del 25 aprile. Sono veramente appassionati nei confronti di questo tema e oggi hanno preparato diverse cosine molto interessanti. Vi ricordo che anche nell'infanzia, che oggi non è presente, abbiamo realizzato un progetto che, anche se non ricordo, è basato sulla lettura della Costituzione. La Costituzione vista dai bambini dell'infanzia, che è stato anche un progetto molto bello. Noi oggi abbiamo il piacere di avere il partigiano Kent, che nonostante la sua bellissima età è sempre presente ed è un motivo di orgoglio per noi. Lo consideriamo la mascotte del nostro istituto. È un esempio per i nostri ragazzi vedere un partigiano che ogni anno puntualmente ricorda la sua esperienza ed è un motivo di soddisfazione per tutti noi vederlo. Speriamo di averlo ancora per lunghi anni. Niente, ringrazio l'emittente e spero che vi farà piacere assistere alla nostra manifestazione. Grazie. Grazie.